se arriviamo a 2500 like un incontro con voi qua dove facciamo una bella gara bene a tutti i sortini eccoci con un nuovissimo video e oggi ragazzi ci lascerò le penne detto molto chiaro dobbiamo salire su questo bolide infatti salirò per la prima volta su un kart e lui avrà la mia vita nelle mani avete capito bene perchè lui guiderà il kart il kart è doppio e aiuto ma di almeno mezzo lui lui no lui lui quel lui ragazzi abbiamo una pista lunghissima non so cosa aspettarmi sarà un'emozione unica e non ci resta che scoprirlo e lasciate like mi raccomando se volete altri video dove lo stortino si caga nelle mutande ciao belli ci vediamo dopo sperando di essere mille like lo stortino si vuota col paracaduto ma se mille like certo così facci se arriviamo a 500 like e mezzo si butterà no 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 ragazzi mi dissocio io mi dissocio no 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 Siamo pronti? No per il cavolo Dai 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 Pronto? No ma ok Porca trama Oh 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 Merda Dove stanno? Valle Poi parte Valle Questo te lo sta facendo tranquillo Dai la tua **** Facciamo da dare un'altra gomme Guarda che **** mi gira la testa Adesso facciamo un altro giro E poi partiamo In che senso poi partiamo Perchetto 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 Enola O No O O Uuuuuuh! VOLCO P***o! VOLCO P***o! Oh figlia Com'è? Figo Porca traia Porca traia Vuoi fare qualche ripresa particolare? Aspetta, aspetta Va torniamo un attimo al via Oh mio dio aspetta Mi devo ripigliare Che tempo abbiamo fatto? 1 minuto e 8 però Oh c***o C***o Vieni, vieni, vieni Oh c***o Porca traia C***o 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 Sì, 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 sì. Sì Sortini che dire È stata un'emozione unica Veramente voglio fare un ringraziamento A Chicca Ovvero Top Fuel a Vignate Che raga È un posto fantastico Se siete in zona mi raccomando Passateci vi lascio anche qui Sotto nella bio Il link del loro sito così potete vedere Tutte le loro piste e tutto Quindi grazie mille per aver fatto provare Questa emozione E possiamo dire che anche lo stortino E la prima andata Quale sarà la seconda Vogliamo dire una cosa dietro le quinte È una chiavica È stato male ma perché è una chiavica lui Sono stato male Sono diventato un palio e ho iniziato a venire da vomitare Ma sapete perché perché ho fatto collezione Ho bevuto il cappuccio, brioche E poi l'adrenalina La prossima volta è cassola, patate E poi ragazzi capito No comunque belli Comunque scusami Disclaimer Miki Cheat Mangia poco Pam Cappuccio da 6 litri Ma lo sapete che quando lo stortino parla Cioè si parla di 5 E non si può fermare Comunque voglio fare veramente Di nuovo un ringraziamento E niente belli Io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Condividete il video con tutti i vostri amici Lasciate like perché se arriviamo a 2.500 like Facciamo un po' Lancio dal paragone Voglio lanciare una cosa Voglio lanciare una cosa Ovviamente Allora io la lancio Poi si vedrà se è possibile D'accordo con loro Potremmo organizzare Se arriviamo a 2.500 like Un incontro con voi Qua Dove facciamo Una bella gara Un gran premio Un gran premio Tutti insieme Ragazzi importante Sono super attrezzati Per i ragazzi disabili Quindi anche se avete qualche disabilità Anche se avete disabilità ragazzi No problem Super attrezzati Sia per il kart Sia per inserire nel kart Esatto perché vi dico solo che Mi hanno messo un'imbracatura E c'era Un salito su Mi ha tirato su In mio nome studente Cioè Super organizzati E complimenti anche per questa cosa Veramente E niente belli Ci vediamo ad un prossimo video Come sempre un salutare dal vostro Storto Ma Non troppo Ciao belli Ciao Ciao Ciao